Buongiorno a tutti, continuiamo la nostra avventura nel mondo di Krayl Manor nel avanzare nel nostro dungeon. Dobbiamo attraversare questa prima avventura, abbiamo già recuperato due plot, due ostacoli, siamo già riusciti a passare, abbiamo già esplorato tutta l'area, abbiamo dei nani che ci attaccheranno, ma abbiamo ancora due, almeno tre plot da esplorare e la sconfitta del re dei goblin in questo momento, prima di chiudere la nostra avventura. Quindi andiamo avanti e ripartiamo ovviamente dalla fase di rivelazione, quindi spostiamo avanti le minacce e la prima fase ovviamente, oh meno male non l'ho girata, è la fase iniziale che è la fase di delve location, poi la minaccia che viene aggiunta. Andiamo a rivelare quindi la minaccia e in questo caso è una guardia delle mura, è un non morto, quando sarà sconfitto ogni eroe deve scartare una abilità. 7 di attacco, 7 di influenza, 5 di sneak e 2 sono i danni che mi darà alla fine di ogni round e durante la fase spirito se non viene fermata. Queste sono le quattro carte che noi attualmente abbiamo. Andiamo a pescare le nostre carte e abbiamo pescato un'azione veloce, perdi uno spirito e dai due danni a una minaccia. Potrebbe essere utile questa carta qua, perché io devo dare sette danni. Attualmente io ne ho 3 più 1, 4 più 2, 6. Non riesco a far fuori questa guardia, ma riuscirò a far fuori almeno quella minaccia. Non ho altre carte, a meno che decido di non giocare questa che restituisce una minaccia in gioco alla fine del mazzo delle minacce, devo scartare ogni token o status da lui, ma esilierò questa carta. Potrebbe essere una possibilità, credo che sia il momento giusto, perché questa è una minaccia abbastanza forte dandomi danni su danni. Quindi io dico che gioco questa minaccia, quindi gioco questa carta, restituisco questa qui alla fine del mazzo delle minacce e devo esiliare questa carta che va insieme a tutte le carte che io ho già esiliato in questa partita. Quindi rimango solo con il mio nano, che è facilmente attaccabile da 5, specialmente se io uso questa carta che mi dice perdi uno spirito, quindi io vado a 18 con il mio spirito, metti 2 danni sopra questo nano, 3 più 1, 4, ma ne bastano 3 per tiltare, per azionare questa azione combattimento e eliminare questi nani. E questo mi dà anche la possibilità di guadagnare una vita. Molto bene, questa ovviamente va indietro questa azione e direi di tiltare a questo punto l'influenza, quindi aumentiamo di 1 l'influenza. Sì, faccio questo. Abbiamo fatto fuori i nani, abbiamo finito il nostro turno, scartiamo le carte, le abilità utilizzate, rimangono ancora 3 abilità, fase spirito non c'è niente che ci attacca, fase di ripristino e di recupero e andiamo all'azione successiva. Allora, le minacce avanzano, ora so che ci sono delle minacce che quella minaccia delle guardie cittadine non sarà, ma ci sono i servi di Manor. Mi dice che questi sono quelli che hanno lo shield e questo può cominciare a diventare un problema. Questi hanno lo shield, quindi il prossimo turno che questo nemico, questa minaccia prende danno, devo bloccare tutti i danni e scartare questo status. Ed è quella che, sconfitta, aggiungerà un'altra minaccia. Ok, adesso direi che viene il mio turno ed è questa. Il sprint rapido perde un'influenza per dare due sneak, due danni sneak alla location, ma ce ne ho già. Quindi questa è una carta prettamente inutile. Allora, io direi che questa minaccia è veramente troppo pericolosa per me, perché è complicata. Allora, potrei farla fuori con tre, vedete che serve tre influenza. Il problema è che qualunque danno io do adesso a questa carta e non posso dare nessun danno. Qualunque danno do a questa carta, prima di tutto dovrò togliere lo scudo. Quindi o utilizzo adesso lo scudo, perché ho un'altra carta da esiliare che prende la minaccia e la manda via. Ma forse, visto che ce ne sono solo due nel mazzo di questa carta qua, l'atterrei in caso ci fosse qualcosa di problematico. Quindi io faccio questo. Faccio questo. Utilizzo il mio attacco di 1 più 1, 2 per dare danni e togliere questo shield. Ok. Poi, tilto. No, questo so che andrà qui. Tilto lo sneak e lo porto a 4. Ok, prenderò danni, eh. Poi, mi fermo qui. Mi fermo qui. Anzi, no, 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 no. Eh, no, errore. E stavolta non mi frego. Non mi autofrego da solo. No, 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 no. Dov'è che è? Eh, no, 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 no. Io ho sbagliato e l'altra volta non l'ho fatto. Stavolta lo faccio. Ho questa carta che mi dice, è la mazza che mi dice flip, cioè girala. Eh, discard one shield from one threat. Quindi io giro la mia mazza, spendo la mia mazza per abbattere questo scudo dell'orco. Ok, quindi ho fatto quell'azione, adesso utilizzo la mia influenza, quindi questa torna indietro, quindi ho tre di influenza e sono sufficienti per far fuori questa minaccia, questo servo. Quindi ho tolto lo scudo, tolgo il servo che a sua volta però fa avanzare tutte le minacce. Molto bene, meno male che avevo questa questa carta qui e ci sono i ratti. Vabbè, i ratti mi danno solo un danno e posso farli fuori il prossimo giro. Allora, loro hanno bisogno di tre. Attacco cinque influenza che io non ho, quindi io direi di avanzare stavolta invece con il mio attacco. Mi prendo un danno nella fase spirito ma lo blocco con questa cosa veloce, blocca uno. Quindi spendo questa abilità veloce che può essere giocata fuori dal mio turno in risposta e quindi non prendo nessun danno. Ripristino tutto, abbiamo tre carte e andiamo a rivelare una nuova minaccia. Vediamo qual è la minaccia che esce e sono altri nani dell'oscurità. Va bene, i danni dell'oscurità non mi spaventano particolarmente. Non mi spaventano particolarmente. Io direi che chi voglio fare fuori principalmente sono questi ratti. Quindi utilizzo la mia azione dei ratti, aumento tiltando questa, tolgo i ratti e quindi rimangono solo i nani. Ho finito la mia fase, i nani mi attaccano di uno e vado a diciotto. Quindi siamo ancora abbondantemente, abbondantemente sani. Io posso anche pescare tre skill e scartarne una. Ne ho uno, due, tre. Quando sarò arrivato verso la fine del mazzo sicuramente la prenderò. Ok, sì, faccio così. Non so se ho pescato, no, non ho pescato la carta durante il mio turno. Un eroe guadagna una power influenza e guarisco due. Bene, 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 mi piace, mi piace. Quindi ho preso il danno dei nani. Abbiamo finito la nostra azione. Molto semplicemente ho quattro azioni in mano. Quindi andiamo a rivelare la minaccia successiva. La nuova minaccia è a un altro nano. Abbiamo due nani qui. Quindi uno di questi le devo fare fuori sicuramente. Perché guarisco anche di uno che sarebbe di fatto la protezione che ho di quello. Potrei anche giocare a questo punto, allora, prima di pescare la carta. Guarisci uno spirito. È veloce. Quindi io la gioco subito per portarmi a 19. E andiamo bene. Userei questa fight action per attaccare questi nani che hanno più attacco. Quindi uso questa azione. Quindi sono cinque. Loro ne necessitano quattro. Quindi uno lo perdo perché ne avevo cinque. Ne spendo quattro. Questi nani sono andati via. Vedete quattro. Questi nani vanno via e mi guariscono di uno. Quindi ritorno a venti. Molto bene. Poi ritorno a venti. Poi tilto direi questo. Tilto questo. E carico di uno. Ok. Poi non ho altre azioni che posso fare. Posso guadagnare un'influenza per guadagnare uno spirito. Ma sono già a vento ed è più che sufficiente. Quindi di fatto io chiudo la mia azione. Lui mi dà un danno e mi riporta a 19. Va bene. Si può fare. Questa va negli scarti. E avanziamo con la minaccia. Spero che escano presto il terzo plot. Perché è ora. Ci sono gli Iron Bird Mercenary. Questi mercenari dalla barba di ferro. Un attacco. C'è un limite di mano. Ogni eroe può giocare solo una skill. Una carta skill per round. Attenzione. Questi devono essere messi fuori il prima possibile. Non sono molto forti ma sono molto rompiscato. E quindi... Ops scusate. Pesco. La carta che usa un'azione addizionale. Buona. Potrei usarla per fare fuori tutti e due. Ma la tengo per quando ci saranno i plot. Sì. La tengo per quando ci saranno i plot. Quindi direi che voglio usare l'influenza. Sì. Uso l'influenza che è 4. Quindi io ho 5. Quindi uso la mia influenza. Tutte le altre swapono in avanti. Ne avevo 5. Ne spendo 4. E faccio fuori questi nani. Bene. Bene. Questi continueranno a darmi un danno. E io tilto. Sono indeciso cosa tiltare. Ma penso che tilterò e aumenterò la potenza di attacco. Sì. Facciamo questa. Lui mi attacca e vado a 18. Va bene. Non è... Non è così rischioso. Ripristino quindi tutta la mia mano. Ho 5 carte. Avanza la minaccia. Vediamo che cosa esce fuori nella nuova minaccia. Oh! E infatti era quello che volevo. Era esattamente quello che vorrevo. Erano i barili sigillati. 5 di attacco o 6. Non c'è influenza. Allora. Ogli do 5 di attacco che attualmente non ho. O 6 di sneak che non ho. Quindi per adesso non penso di poterci fare niente. A meno che non viene fuori una buona carta. Allora dai 4 danni ad una minaccia. Uuuuh. Lui ne prende 3. Oh! Bellissima. Bellissima. Questa non è un'azione. Quindi. Allora facciamo così. Facciamo così. Gioco questa skill. Questa ne posso giocare una sola? No. No. Perché è andato via. Quindi gioco questa skill. Dai 4 danni a un mostro. A una minaccia. Ma perdi uno spirito. Va bene. 17. Questo l'ho ucciso perché ha 3 di vita. Quindi questo se ne va. Lui quando va via. Io recupero una vita. E vado a 18. Molto bene. Poi questa mi serve o 5 attacco che non ho. O 6 sneak che non ho neanche. Queste ne ho 3 più 1 4. 2 più 2 4. Quindi a questo punto io tilto questa azione sicuramente. Per portarla a 5 saranno più che sufficienti. e non ho ancora usato la mia azione. Questo no. Uso questa come azione per pescare una abilità che è l'ultima. Ed è la mia abilità. Giocala immediatamente. Ah fai ritornare una delle tue abilità esiliate alla tua mano. Ma perdi uno spirito ed esili questa. Ah molto bene. Allora io quella che vado a riprendere è assolutamente questa. Così ne ho in mano altre due. E perdo uno spirito. Va bene. Si può fare. Questo mazzo viene rimescolato. Ma io prima di rimescolarlo a questo punto. Userei questo che un eroe guadagna un influenza. Quindi 2. E guarisci 2. Heal to spirit. Quindi gioco anche queste 2. Quindi vado a prendere. Vado a 19. Molto bene. Molto bene. Ripristino. Questo plot non mi dà nessun danno. E quindi abbiamo finito le mie azioni. Perché ho 1, 2, 3, 4, 5 carte in mano. Va bene. Va bene. Nel frattempo ho sufficienti carte per poter prendermi cura di questa. Quindi finisce il round. Non subisco nessun danno. Avanzano tutte le carte. Tra un po' arriverà il re dei goblin. Potrebbe essere. Ecco guarda. Me lo sono chiamato. Porca miseria. Allora il re dei goblin è particolarmente cattivo. Perché vedete che ha 2 possibilità di attacco. Che sono il combattimento e lo sneak attack. Da 2 danni ma recuperi 2 vita quando lui muore. È un boss e quindi un foe. Ma queste due azioni devono essere fatte entrambi. Vedete che c'è questo piccolo asterisco. Spero si possa vedere. Questo asterisco indica che entrambi deve essere colpito di fatto 2 volte. Quindi. Quindi. Questo è un po' un mezzo problema. È uscito il goblin chief. Allora. Forse devo cambiare la mia strategia. O forse no. Vediamo che carta vado a pescare. Prima di tutto. Perché adesso devo rimescolare le azioni. Magari mi viene una carta interessante. Quindi. Pesco una carta. Mazzo di pesca. La carta è. Deal. 4 fight. Ok. Ok. Allora. Questo arrivo a 4. Un bel problema. Allora. Non riuscirò ad attaccare sto tizio qua. E questo mi gira assolutamente. Perché ho 3 più 1. 4. Ce ne vogliono 6 per questo e 6 per questo. È veramente fastidioso. Allora. Io adesso però. Faccio un'azione. Gioco la mia azione speciale. Giro questa qua. Pesco 3 skill. E ne scarto 1. Quindi. 1, 2, 3. Perché mi servono. Skill. Di. Vediamo se sono arrivate. Influenza. No. Questo no. Questo no. Questo no. E tengo queste. Allora. Mi prendo cura di lui. Comincio con lui. Per forza. Per forza. Che poi sono le stesse azioni che mi chiedono. Quindi. Prima di tutto. Do 4 danni. Deal. 4 fight. A questo barile. Ok. E perdo uno spirito. E vado a 18. Ok. Poi. Utilizzo. 3 più 2, 5. Non ci riesco. Porca. Una miseria. Allora glielo do il capo qua. Utilizzo. Utilizzo. Il fight action. Ok. Che per fare 5. Io avevo. 3 più 2, 5. Quindi non ho più niente. Però. Va bene. Per far fuori questo. Allora. Quando è sconfitto. Devo scegliere un'opzione. Lo apro. Lo schiaccio. O lo ignoro. Poi uso un'altra azione. Se è disponibile. Allora. Io direi di. Aprirlo. Magari smash. Mi fa esplodere. Uh. Mi piace sta cosa qua. Smash. Io non so che cosa c'è dentro. Però faccio lo smash. È il B029. Andiamo a vedere. B029. Smash. Eccolo qua. Con un colpo di rabbia. Io prendo questo barile sigillato. E spacco ovviamente le assi. Il ferro che protegge il contenuto. A causa della mia rabbia. Un artefatto è rivelato. È una candela. Un candelabro praticamente. Questo. Questo ornamento. È risultato. Come dire. È sopravvissuto. La distruzione caotica. Mettendo. Aggiungendo la luce. Non mi piace questa roba coppa. Guadagno due spiriti. Poi posso scegliere di dare. Due danni di influenza. Ad ogni. Minaccia demone. Ma non ho. Minacce demoni. Eh. Oppure guadagnare un'influenza. Vabbè. Guadagno un'influenza. Guarisco due. Va dai. Un po' di luce. Guarisco due. Non è andata male. Speravo esplodesse. Se ci fosse qualche candelotto. Che facesse danni. Invece. Non è successo. Ma vado a venti. Poi posso utilizzare. Un'altra azione. Che è disponibile. Quest'azione disponibile. Potrebbe essere questa. Di dare. 3 più 1. 4 minacce. Ma cambia poco. Cambia poco. Però. La tengo. Si la faccio. E do 4 minacce. A questo tipo qua. Tanto devo dargli sia minacce. Che danni. Quindi cominciamo a mettergliene sopra. E a questo punto. L'unica cosa che posso tiltare. È giusto questa. Ok. Quindi tilto questa azione. Allora. Questa va avanti. Questa va a 2. E saranno sufficienti. Per dargli una botta. Questa. Torna indietro. Ed è 1. E non è sufficiente. Per farlo fuori. Ma intanto. Abbiamo fatto qualcosa. Ho un sacco di cose. Che posso fare. Con queste carte qui. Tipo. Rivelare. Uso questa skill. Che sennò devo scartare. Rivelare. Uno shadow. Quindi un'ombra. Oh. È la mia carta avventura. Leggerò la mia carta avventura. Dopo. Melo male. Non so se è una cosa positiva. O una cosa negativa. Ma è interessante. Che posso rivelare la mia carta. Quindi non è una minaccia che attacca. E questo mi fa particolarmente piacere. Ho 6 carte in mano. Quindi finisco il mio round. Finisco il mio round. Scarto ovviamente anche questa carta. Ma. Lui mi dà 2 attacchi. Quindi torno a 18. Torno a 18. Meno male che non è una minaccia di quelle cattive. Altrimenti cominciava a accumularsi i danni che vengono fatti. Ma andiamo bene. Andiamo bene. Perché. Ho finito. Questo avanzano quindi le minacce. Quindi posso leggere la carta storia. E aggiungo un'altra minaccia qua sopra. Allora. La carta storia mi dice. Io mi trovo davanti all'entrata di questa magione del male. Entrando attraverso queste enormi porte. Le pietre che adornano. Le pietre protettive che adornano la mia tunica magica. Cominciano a fremere. E questa. Cominciano a fremere perché devo affrontare la malvagità che mi aspetta davanti. Che fa parte delle pietre di Krell Manor. In una pericolosissima missione per i libri, i tomi di Eibon e di Ivory. Che hanno certamente una enorme arcana potenza che è forgiata davanti a me. Scegliendo di utilizzare la cautela io entro all'interno della fortezza principale. attraverso questa vecchia porta di quercia. Mezza distrutta e abbandonata dal tempo. All'interno delle stanze che trovo avanzando. Trovo una vecchia copia di un testo intitolato Lezione di Antica Magia. Le sue pagine sono molto antiche, quasi friabili nella mano, ma potrebbero contenere magie e doni non conosciuti. Allora io posso soccombere alla curiosità e investire ogni mio ultimo, in ogni momento leggendo questa lezione e svelando i misteri, le misteriose magie che ci sono. Dovrò leggere la carta storia 002, oppure io posso andare avanti nella profondità lasciando che quella magia perduta arrivi nel futuro, sapendo che il tempo è essenziale per la mia spedizione. Ah, interessante. Quindi scelgo di leggere il libro sbloccando chissà quale magia. Mi piacerebbe da morire. Oppure, oppure vado avanti non perdendo tempo, però sono troppo curioso. Sì, sì, sono troppo curioso. Leggo la storia, carta storia numero 2. Andiamo a prendere le carte storia. Questa, eccola qua, la Adventure... Ah, no, no, no. Devo leggere FM02, giusto? Sì, è War Mage 002. Immergendomi nella lettura della magia perduta, il testo, come dire, emana, prende vita in qualche modo, è una magia primordiale e velati rituali escono e vengono esposti e viene rivelato a me il segreto. Io, potenziato da questa nuova, della nuova energia che mi è stata data, che ho imparato attraverso questi tomi segreti, io percepisco che i misteri arcani di questa magione si stanno rivelando. L'incanto della lezione è stato ripristinato nel mio viaggio e le scelte davanti a me mi si aprono con il peso di possibilità magiche. Più profondo, in profondità, nel labirinto, io sento il ruggito o il rumore di un toro. Con questa nuova abilità che si è appena rivelata devo scegliere una forza. Scelgo sinceramente e attentamente Ah no, aspetta, forse questo lo devo leggere nell'avventura 2? Eh sì, avventura 2. No, 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 questo lo dovrò leggere nell'avventura 2. Meno male non l'ho letta e non ho scelto. So che c'è quella roba lì, ma è avventura numero 2. Quindi questa dovrò metterla nella storia dell'avventura numero 2. Vedete che c'è scritto Adventure 2. Meno male non l'ho letta e non so che cosa conterrà. Va bene, va bene. Grazie per la storia. Molto interessante. Devo scegliere ci sarà un qualche nemico o una qualche minaccia, ma questa magia mi intrippa di brutto. Quindi abbiamo fatto questa azione rivelata e dobbiamo scegliere che cosa fare. Ma nel frattempo pesco la mia carta. Ok, allora sempre quella di influenza che non mi serve niente. Allora, io direi io direi a questo punto utilizzo la mia azione attacco per forza per dargli il secondo attacco. Quindi questa l'ho fatto. Ok. Potrei tiltare questo perché posso usare una Usa una additional available action. Io ho questa action che è proprio di livello 2 quindi uso anche questa e 4 più 2 sono 6 e sono riuscito a sconfiggere il re dei goblin grandioso e recupero due vite. Ah, questa era proprio una super combo. Benissimo, sono stato particolarmente fortunato quindi ho usato questa skill ho 6 skill in mano utilizzo questa in cui un eroe guadagna uno spirito ma voglio swappare azioni perché non ho idea swappare carte perché non ho idea di quello che uscirà e preferisco avere una minaccia a 3 quindi uso questa fusione e tilto questa azione è l'unica rimasta e la porto a 7 più di 6 non si può avere ma sono soddisfatto buono buono bene ho fatto fuori il capo dei goblin ok finisco le mie azioni ripristino tutto questo po' po' di roba qui e spingo avanti adesso mi servono solo plot quindi devono uscire i prossimi due plot una volta sconfitti i plot posso avanzare durante la fase delve posso chiuderla e ho trovato il capo dei barbari devo usare una volta sconfitta devo usare devo usiliare la carta in cima al mio mazzo deck quindi questa in questo caso e va bene perché pesco una skill e mi dice dai un danno influenza a una minaccia ma non mi serve perché io tilto questa che ha 2 più 5 sono 7 io ne ho bisogno 4 quindi questa viene tiltata da 7 rimangono 3 perché 4 li uso qua e potenzio lo sneak ok potenzio lo sneak questo se ne va e devo esiliare questa carta va bene esilio ci sta ci sta l'esilio ci sta molto bene molto bene adesso dobbiamo solo avere che fare con i nostri plot quindi avanza 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 e ah il mercenario quello che ti da la possibilità di usare soltanto una skill lui ha poca influenza quindi userò tutta l'influenza che ho nella mia azione quindi vado a pescare la mia carta buona questa mi piace uso tutta l'influenza come azioni ne servono tre io ne ho quattro quindi ne rimane una faccio fuori questo così non mi dà danni e vado a tiltare l'attacco sì bene 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 andiamo bene solo che adesso ho troppe skill in mano e allora a questo punto vado a eliminare questa così ne ho sei in mano va bene va benissimo stiamo correndo velocissimi quindi andiamo avanti con le azioni oh eccolo qui è ah no è un ostacolo è un ostacolo questa è una carta ostacolo avendo il fondo verde pensavo che fosse un plot ma non è un plot è un ostacolo una minaccia ostacolo quando è sconfitto pesco due skill guadagno due vita ma non mi fa danni può rimanere qui ab eternum mi farà recuperare solo pescare energia e guarigione sono della la pittura ornamentale va bene magari l'ho trovata in una stanza e mi calma e mi da pace benissimo questa roba qua quindi io adesso allora tilto questa e va a due uso questa per dare un danno influenza perché ho un sacco di skill quindi non ho necessità perché mi dice dai un danno influenza ok quindi con questo posso fare o l'azione influenza o dare un danno influenza o pescare una skill perché tanto questa non mi da proprio un bel niente indietro quindi va bene e io ho comunque le mie cinque carte in mano e uso questa per dare aggiungere un'altra influenza a una minaccia ah ma questo non è ah si è una minaccia quindi c'è scritto qua sotto quindi siamo già a due ma non ho utilizzato le azioni bene bene andiamo avanti quindi ripristiniamo non prendo danni da questa minaccia avanziamo con tutte le nostre minacce e vediamo se arriva all'ostacolo no c'è il servo della magione che era un shield e forse l'ho giocata male sì l'ho proprio giocata male perché avrei dovuto spendere le mie azioni tipo questa di dare un danno influenza una minaccia a lui così toglievo il threat ma io ho ancora le mie carte che posso far restituire una minaccia in gioco nella fine del mazzo e lo vado a fare togliendo tutti gli status e i token e esilio questa carta quindi questa la metto sotto quindi non mi stressa la vita e mi dovrò occupare solo di questa va bene va bene va benissimissimissimo quindi pesco che cosa faccio adesso faccio la stessa cosa vado a potrei usare questa per fare ma non mi serve vado a tiltare questa portarla a due e uso questa azione per aggiungere un'altra influenza qua sopra ok mi sta bene mi sta bene mi sta bene ripristino tutto siamo a tre quindi siamo abbastanza tranquilli minaccia il carto in mano ne ho cinque avanziamo quindi portiamo avanti le carte dove sono gli ah eccoli qua ci sono due plot ancora ci sono pochissime carte allora ecco qua il plot ostacolo 4 di forza e 5 di sneak posso scegliere attraverso questi porticato ponte sospeso devo passare sopra e ho un'azione extra allora l'unico modo che posso con il quale posso agire è con questo fight action quindi uso il fight action qui a 4 io ho 5 quindi ne uso 4 di 5 e ne avanzo una quindi ne avanzo una e faccio fuori questo plot posso salire però devo avere combattimento 5 posso sbloccare cercare di sbloccarla con sneak 4 e ce l'ho sneak 4 quindi posso fare quest'azione provo a fare quest'azione guadagno una vita ma sono già al massimo quindi faccio l'azione di sbloccare B020 vediamo se mi dà qualcosa di simpatico provo a sbloccare quindi cercando di maneggiare quel non è un punto sospeso oh cavolo non mi ricordo come vengono chiamati i ponti elevatoi con quelle barre lì davanti riesco comunque a liberare questo uomo che è dietro una bandiera che con un misto di paura e di gratitudine mi dice che sono che è stato liberato e grazie dolce eroe mi dice attraverso il sorriso nervoso con i denti tutti rotti che è un crudele rimando della tirannia del suo maestro mi si presenta lui si chiama d'aric sono felice di aiutare e io ti seguirò e mi a mi rivela un passaggio segreto attraverso i luoghi del maniero ma appena raggiunge le ombre si terrorizza dai tre sneak power alla location attiva o guadagna tre sneak power io c'ho già pieno qui quindi ne vado ad aggiungere tre qua cambia poco forse cambia poco ma va bene ma va bene ma va bene perché questo non la voglio scartare non la voglio scartare mi dice qui che posso fare un'altra azione e allora io tappo questa per portare a quattro questa e con sneak la porto a sei il massimo che posso raggiungere quindi posso fare un'azione di nove al massimo quindi ripristino tutto mi manca il quinto ed ultimo plot mi mancano anche poche carte nel mazzo ho cinque minacce quindi andiamo abbondantemente bene andiamo a rivelare la sesta minaccia è il ratto che non ho problemi a far fuori assolutamente pesco una carta questa mi piace perché la terrò perché dà un danno di battaglia di combattimento a una minaccia quindi utilizzo questi sei più tre nove per tenerne cinque ancora e utilizzare questa azione per far fuori questo ratto eccolo qua che ha quattro quindi facciamo fuori il ratto e vado a potenziare con due il combattimento poi ripristino tutto avanziamo a uno due tre quattro cinque sei minacce quindi andiamo più che bene andiamo a girare la carta è un combattente che mi mette un po' in imbarazzo no non mi mette in imbarazzo non ho problemi a farlo fuori assolutamente non ho problemi a farlo fuori allora quando è rivelato devo perdere un fight power quindi lo porto a tre rivelo questo aggiungi uno sneak a un'azione sneak ma non mi serve perché è più che sufficiente i cinque più uno sei che ho per spenderne tre di questi per far fuori questo qua e andiamo bene e vado a tiltare quella forza che ho appena perso e abbiamo fatto quindi andiamo avanti bene uno due tre e ormai siamo in quasi in chiusura eccola qua l'ultima no è sempre uguale è sempre questo cavolo ogni volta che vedo verde queste qua sono tutte fatte col verde vedete il colore base di fondo è il verde mentre le minacce hanno blu ma io quando vedo verde penso che sia quella è uguale alla pittura ornamentale che avevo che non mi interessa di fatto proprio niente non mi interessa niente quindi a me interessa però usare questa azione a questo punto la uso per spingere avanti tutte queste uso questa azione che sono tre più uno quattro per dare quattro a questo quindi li teniamo buone non dovrebbe succedere assolutamente niente però vado a tiltare qua così mi porto a sei attacco va bene va bene uno due uno due tre quattro cinque sei sette devo scartare una carta scarto questa che non mi interessa quindi ripristiniamo nessun attacco da parte dei nemici avanziamo spero arrivi questa lo so quali sono le ultime due carte lo sappiamo quindi qui in mezzo c'è sicuramente il plot queste due carte sono le carte che io ho rimandato in fondo al mazzo ed è un altro capo barbaro che non ho problemi a fare fuori vediamo se riesco a allora blocco uno posso anche tenerlo per bloccare posso anche tenerlo per bloccare oppure no si posso anche fare questo alla fine spendo questo perdo un'influenza ah no location non posso usarlo questo non mi serve proprio niente la scarterò allora lascio in gioco no lo faccio fuori ma perché devo lasciarlo in gioco scusa posso farlo fuori ho 3 più 3 6 3 più 3 no non c'è ah si se gli do questi quattro danni no un danno do un danno a questo più 3 più 3 6 e faccio fuori questa quindi ho fatto fuori 3 più 3 7 ho usato questo e dai un danno durante ad una minaccia l'ho fatto fuori tilto a questo punto questo lo porto a 2 ok ho finito le mie azioni vediamo 1 2 3 4 5 6 avanziamo avanziamo questo so che sono gli ultimi giocatori quindi o qui o qui o qui c'è il plot non è qui cavolo proprio l'ultimo ultimo allora livella perdi un combattimento ma non ne ho lui deve vincere posso battere con 6 di influenza va bene questo guarisco di 1 ma non mi aiuta per niente allora spendo 3 più 1 4 quindi ne restano 2 per fare questa azione e con 4 sneak attack faccio fuori questo tizio qua va bene e tilto la attacco ripristino ho un sacco di skill in mano 2 3 4 5 6 7 skill questo ormai non mi serve più e quindi deve essere per forza qui a questo punto se no non ho più non ho più carte quindi questa eccolo qua eccolo qua però però si ce la faccio ce la faccio con 3 con 3 ci riesco ci riesco signori sono riuscito a finire quello che devo finire perché adesso quello che succede è è il mio turno pesco una skill mi dice che spendo 2 più 1 3 per far fuori questo questa è l'ultimo trove che io vado posso scegliere di aprirlo distruggerlo o di ripristinarlo io provo ad aprirlo B008 vediamo se trovo qualcosa di interessante pesca un asset di bronzo o guadagna uno spirito io spirito sono messo benissimo vado a prendere un bronzo che è che cos'è questo il simbolo magico guadagna un power un'influenza power massimo 5 volte posso utilizzare 5 volte questa abilità del simbolo sacro che mi fa guadagnare influenza quindi aggiungerò questi token 1 2 fino ad arrivare alla quinta volta e poi non lo potrò più usare questo simbolo magico mi piace mi piace mi piace quindi ho un'altra azione che posso fare ma va bene faccio fuori questa chi se ne frega guadagno 2 spiriti ma io sono già al massimo della vita tilto questa finiamo il turno ripristino tutto questo quindi ho i 5 pot ho 7 carte scarto questa me ne rimangono 6 in mano quindi fase delve la prima fase eccola qui story delve le abilità delve ma non ci sono abilità esplora la location io ho già 3 su 3 victory check se la location dell'avventura è sconfitta con successo l'eroe è adesso vittorioso e devi aver sconfitto la minaccia devi aver risolto i 5 plot che ci sono e devi avere il numero richiesto di token sneak dove c'è il limite richiesto dalla location che è 3 quindi signori sono riuscito agevolmente devo dire abbastanza agevolmente anche perché c'è stata una discreta concatenazione di eventi sto gestendo molto bene attacco personaggio e quant'altro bene così ovviamente queste erano le tre minacce qui c'erano le guardie le guardia e il servo di manor che io avevo messo sotto e quindi ovviamente questi tre nemici che sono i tre nemici peggiori devo dire che l'abilità del mago di restituire di restituire una minaccia in fondo al mazzo è veramente eccellente perché i nemici più complicati e complessi da affrontare possono essere messi sotto è vero che esili la carta ma la puoi anche recuperare quindi tre carte uno l'ho sconfitto e tre le ho messe sotto quindi questa è un pochino la meccanica di questo personaggio è una meccanica molto forte ma suppongo che avanzando con i livelli troverò nemici più difficili la prima avventura è stata risolta c'è anche la mia avventura personale che poi andrò a guardare con la mia storia che è qua e metterò nella prossima marzo della minaccia magari farò ancora o un altro personaggio magari ditemelo voi o un altro personaggio sempre questa avventura o andrò avanti con la campagna con la seconda avventura bene grazie per aver visto il video fin qui se vi è piaciuto il video mettete un like se vi piace il canale ovviamente iscrivetevi ci vediamo alla prossima buona giornata a tutti